Così invece hai lasciato che Fido si sporcasse le zampe per te? Fido, come lo chiami tu, essendo lui stesso feroce, ha come funzionalità superiore soltanto la fedeltà assoluta. Certo non doveva averne molta per esserti fedele. Mostra un po' di rispetto per il più grande cacciatore della galassia. Se sei così grande, come mai ci hai messo cinque anni a catturarmi? A Vilgax sono bastati cinque minuti. Potrei distruggerti subito, ma se lo facessi perderei ogni potere di contrattazione con i miei soci. Dovresti controllare il tuo temperamento. Preparati a lottare con Homo Sauro! Ascolta bene, visto che ti proclami il più grande cacciatore della galassia, io sono Tigre, non Homo Sauro. Ma Tigre ti farà sentire un Homo sfatto. Davvero? Vuoi combattere con me, cagnolino? È l'ora della merenda! Basta giocare. Lui è mio. Caro amante dei cani, copiatore di Omnitrix, foruncono sul sedere. Tigre dichiara ufficialmente aperta la stagione di caccia a Kyber, il cacciatore. Come puoi vedere, ho già approfittato della stagione di caccia agli Apoplexian. Caccia a Kyber! Caccia a Tigre! Caccia a Kyber! Caccia a Tigre! Caccia a Tigre! Caccia a Tigre! Ma che cosa hai fatto? Presa neurale Festen. Utile per sottomettere qualunque tipo di preda. Secondo gli accordi che ho preso, i miei soci dovranno averti a pezzi. Caccia a Tigre!